Michele Lobianco è un po' come la Barilla, la più amata di tagliari per la pasta, mentre Lobianco in comune è tra i più amati dei comunali. Allora Lobianco, un ritorno? Qual è l'emozione a questo punto perché è un assoluto particolare? L'emozione è quella di un grande abbraccio nei confronti dell'amministrazione comunale e dei dipendenti che io dopo 5 anni ritorno ad amministrare in quello che è una mia passione. Ecco, tutto qua.